In quasi 600 scenderanno dalla provincia di Sondrio per partecipare all'Assemblea Nazionale di Coldiretti, in programma domani all'Expo di Milano. Un appuntamento che arriva in un momento particolarmente delicato per l'agricoltura locale, alla vigilia della vendemmia 2015. Alberto Marsetti e Andrea Repossini, rispettivamente presidente e direttore dell'Associazione di Categoria Valtellinese, annunciano sin d'ora battaglia. Sul tavolo, spiega Marsetti, la delicata questione dei prezzi pagati ai viticoltori per le loro uve. Siamo in una situazione che ormai ferma da anni, ci è stato chiesto in questi anni di avere pazienza perché bisognava investire sulla denominazione, sulla promozione del vino valtellinese. Dovevamo sostenerla anche noi tenendo un po' i prezzi di riferimento fermi delle uve, però reputiamo come viticoltori. I viticoltori reputano che i sacrifici in questi anni sono stati tanti ed è giusto in questo momento qua cercare di avere una remunerazione maggiore. Il valore dei rossi valtellinesi è ormai riconosciuto a livello internazionale. È dunque arrivato il momento di far respirare anche gli agricoltori. La denominazione negli ultimi anni è salita a livello qualitativo. Le uve, dette dalle stesse aziende, hanno migliorato la qualità. Quindi è giusto che questa qualità venga pagata in un modo adeguato. Che si avvicini sempre di più ai costi di produzione che sono ben lontani dagli attuali euro e 60, due euro di media che vengono pagate. Il costo di produzione al chilo di uva sassella è di circa 3 euro, un abisso dal prezzo corrisposto. Attualmente su 900 ettari di vigneti, quasi completamente terrazzati, circa 700 vengono destinati per DOC e DOCG. Con un lavoro svolto ancora per gran parte manualmente, ma che, spiega Marsetti, è fondamentale per la nostra terra e la nostra gente. I rischi sono tutto quello che è stato investito in questi anni si vada a vanificare. Cioè continui abbandoni, quindi problematiche sui territori, dissesto idrogeologico. Cioè, quindi ognuno di noi avrà delle proprie responsabilità. Certamente i viticoltori non possono continuare a lavorare in questo modo. Non è certo, continuando a dire, che bisogna diminuire gli ettari evitati per risolvere i problemi. In questo momento qua, paradossalmente, bisogna investire sul vigneto e cercare di aumentare ancora la qualità sul vigneto e aumentare la produzione se si vuole essere sempre più competitivi sul mercato e avere sempre più spazio sul mercato. Se no, diventeremo sempre di più un'area insignificante.